Il diritto alla cura, farmaci per tutti. Quando in gioco c'è la tutela della salute pubblica, anche la scienza deve essere pubblica. Non nel senso che tutti dobbiamo sentirci scienziati, ma che gli organismi scientifici, inclusi quelli privati, devono mettere le loro scoperte, la loro ricerca, al servizio di tutti. Le istituzioni europee hanno assegnato grandi risorse alle case farmaceutiche per accelerare lo studio di farmaci e vaccini utili a uscire dall'emergenza sanitaria, da questa pandemia. Questi farmaci e vaccini sono adesso una risorsa da condividere, senza possibilità di specularci sopra. Non si fanno profitti sopra i diritti. E la salute è un diritto primario. Allora, diritti alla cura, farmaci per tutti. Allora, diritti alla cura, farmaci per tutti.